di marco benazzi 9 più voce di lorenzo pieri 15 ottobre 1967 era l'ottobre del 67 le giornate autunnali passavano quasi uguali lentamente e senza particolari novità come solo quelle di un cinquenne possono essere con ritmi cadenzati dalla preparazione dei tre pasti principali dal mattino al tramonto il vetro della finestra che si affacciava sulla piazzetta percorso da grigie lacrime di vapore lasciava intravedere le manovre del gruista che dall'alto della cabina dominava la città il clima al secondo piano del civico 24 di via como era di quelli da sfida all'ok corral dove al posto delle colt fumavano i coglioni di mio padre e le pallotto le venivano sostituite da schiaffi e stoviglie volanti per la terza domenica del mese al cinema parrocchiale di san bartolomeo era in programmazione un vecchio film di guerra all'ovest niente di nuovo dopo aver aiutato mia madre e la cavallona nomignolo affibbiato a mia sorella a rassettare la cucina asciugando piatti e bicchieri venivo scortato al cinema dall'inseparabile bipede in plume in gonnella gassosa lacci di liquirizia e sacchetto di lupini buio in sala e la mia mente volava oltre il telo bianco l'immagine che di quella vecchia pellicola assegnata dal tempo e dall'usura mi rimase impressa a fuoco nella mente era data dall'istantaneità con cui la morte poteva arrivare un batter d'occhio che può essere quello segnato da un colpo d'ali di una farfalla o da quello esploso dal fucile di un nemico proprio quella farfalla che il protagonista raggiungerà solo in un flashback della verde età c'era nell'aria viziata di quel vecchio cinema il presagio nitido della violenta emozione tornato a casa al radio giornale della sera giunse la notizia dell'incidente occorso a gigi meroni mentre con un amico e collega attraversava a piedi una via principale del centro di torino le sue condizioni erano disperate quella sera dal buio della mia stanzetta rannicchiato in posizione fetale mi tornavano alla mente le immagini del film e non riuscivo a prendere sonno dalla cucina alla radio gracchiando suoni lontani trasmise la notizia della morte del campione granata la domenica successiva tornai al cinema con la ferma convinzione che da quel giorno avrei tifato per la squadra di meroni mi piaceva il colore delle loro maglie e il fatto che si facessero chiamare con il nome del maschio della vacca il toro quella giornata affrontava la juventus nel derby piemontese tra il silenzio irreale di entrambe le tifoserie prima del fischio d'inizio da un elicottero vennero gettati migliaia di fiori in campo poi raccolti e sistemati sulla fascia destra la sua quel pomeriggio al cinema facevano miracolo a milano alla sera mio padre juventino sfegatato mi concesse di vedere con lui nel televisore che nonna dina custodiva gelosamente nel suo tinello la domenica sportiva il presentatore con l'eleganza e la professionalità di chi conosce ventimila parole e le sa usare in uno studio dal clima a dir poco spettrale raccontò le varie fasi del derby della mole nestor combine un attaccante sudamericano molto amico di meroni giocò nonostante la febbre a 39 per onorare la memoria del compagno lottò come mai in precedenza gli era capitato dopo sette minuti aveva già siglato una doppietta per poi firmare la tripletta allo scoccare dell'ora di gioco un quarto gol fu segnato da un certo alberto carelli che guarda caso portava la maglia con il numero 7 quello che fino alla domenica prima era sulle spalle di meroni ad ogni rete segnata la curva maratona rispondeva con un boato irreale e un fiume di lacrime il toro dominò quel derby vincendo per 4 a 0 quel risultato non era mai stato raggiunto nei 60 anni precedenti e non lo sarà mai nei 40 successivi sentendo i commenti a quella che con molta probabilità resterà la partita più ricca di significati dell'intera storia granata sentivo entrare in corpo la granatitudine che come le radici della quercia affondava a profondità insospettabili ero a tutti gli effetti diventato granata per sempre quando fiero del nuovo colore del mio cuore guadagnai il mio canapè mi resi conto che il film visto nel pomeriggio l'avrebbero potuto ambientare tranquillamente anche a torino oggi dopo che i miei occhi hanno visto tante altre farfalle volare oltre le nuvole sono certo che quella di diventare tifoso granata è stata una delle scelte più importanti e determinanti della mia vita grazie gigi il tuo sacrificio come quello della farfalla preistorica calpestata nel celebre racconto di bradbury ha generato in me la forza di non mollare l'io opaco che mi accompagna fin da bambino mi ha portato a credere ai miracoli chiaramente paradigmatici che interpreto nella sconfitta della morte cioè di tutto ciò che mi affligge mi deprime e tende a limitarmi nei rapporti interpersonali